Sono Giulia Gadda e per me la sostenibilità è ambiente. Per questo ho selezionato il tessuto dell'azienda Albiati realizzato con il filato Evo by Fulgar, avente la caratteristica di essere un filato bio-based. Ho realizzato un capospalla dalla linea squadrata e decisa, che prende ispirazione dall'iconico Barbour. Ho interamente ricamato a macchina il tessuto seguendo il disegno di due opere degli anni 60 di Sittombli. Il progetto Future Lab, promosso da Fulgar in collaborazione con Naba, mi ha dato la possibilità di sperimentare e utilizzare in modo creativo materiali sostenibili. Grazie per la visione!